Il 15 marzo 2020, la Regione Veneto ha istituito i COVID Hospital, strutture sanitarie riservate alla cura e alla gestione dei pazienti COVID-19. Nove realtà hanno ospitato quasi 5.000 pazienti. Sono gli ospedali di Belluno, Vittorio Veneto, Dolo, Iesolo, Trecenta, Schiavonia, Sant'Orso, Villa Franca e Borgo Roma a Verona. Il COVID Hospital è attrezzato per tutte le esigenze assistenziali dei pazienti COVID-19. Nel reparto di malattie infettive vengono ospitati i malati con sintomi e problematicità evidenti. Qui, i 165 posti letto iniziali sono passati a 1.810. Per i pazienti con infezione acuta sono state organizzate delle terapie intensive apposite dotate di attrezzature necessarie a garantire l'assistenza continua. Oltre all'aumento dei posti letto, sono stati predisposti ulteriori monitor per il controllo delle funzioni vitali, ventilatori polmonari, pompe infusionali, caschi e maschere per l'ossigeno, umidificatori attivi e per l'ossigenoterapia e sistemi di biocontenimento isolation room. Inoltre, sono stati allestiti 385 posti letto in terapia subintensiva, dove i pazienti non in grado di proseguire l'adegenza in un reparto ordinario vengono seguiti da professionisti appositamente formati. L'ingente dispiego di risorse umane ha richiesto un potenziamento degli operatori sanitari in tutte le strutture sanitarie del territorio regionale, infermieri, medici e gli operatori sociosanitari. Nei magazzini della Regione Veneto sono state acquistate attrezzature di protezione indispensabili per le attività ordinarie e ospedaliere. Calzari, camici, cuffie, gel igienizzante, mascherine, occhiali e visiere, tute protettive. Regione Veneto contro il coronavirus